Ciao ragazzi, nuova recensione e benvenuti. Per oggi parliamo dei grandi classici, numero 50, ovviamente in questa super variant edition da Marco Rota svolta e firmata. Guardate che bello, è in rilievo, ovviamente ho il paperone, tutto questo lucido che vedete, è in rilievo leggermente la scritta ed è una carta molto ruvida al tatto direi, molto bella, poi dà quell'idea di essere antica ma in realtà moderna. Marco Rota riesce a fare comunque dei grandi segni e ho deciso di recensirlo solo ora perché mi è arrivato solamente adesso, ovvero qualche giorno fa, ma in realtà uscì addirittura il 15 febbraio, ma con tutto quello che è successo capite bene che sono andato solamente in fumetteria solo qualche giorno fa ed era lì prenotato e già pagato. Parliamone meglio. Ed eccoci dunque, Marco Rota con la sua bellissima copertina, grandi classico Disney. Questa è la copertina nella cover normale, comunque molto bella di Cavazzano, molto molto bella. Devo dire che i grandi classici, voglio premettere, sono forse la testata migliore che ci sia attualmente sul mercato, insieme al topolino ovviamente, per qualità di storie che vengono ristampate. Questo per esempio è il sommario, un sommario che non vedrete mai in un Paperino, in un Zio Paperone, in un Paperinic o in un Vattella Pesca qualunque, ma solamente in grandi classici. Riescono a prendere storie degli anni 80, 90, ma riescono a prendere storie anche degli anni 56 e 61. Capite bene che ci sono sempre una facciata di storie, la maggior parte, quelle 5 o 6, di numeri un pochino più recenti, anche se parliamo di storie 65, 84, 89, 83, 93, insomma, già minimo minimo di 20 anni, se non di più, 27 anni minimo. E parliamo anche di storie molto vecchie, infatti hanno questa stellina qua, e c'è anche un redazionale di Luca Boschi che ci introduce quelle che sono le storie che andremo a leggere, quindi veramente fantastico, tra l'altro, guardate, ma il prezzo 6,90 perché era variante, ma in realtà costerebbe 4,90 e per quello che viene stampato è molto bello. Anche qua c'è un piccolo redazionale, semplicemente di quello che si andrà a parlare, un po' come se fosse Alex Bertani, Lidia Cannatella, che dà un'introduzione al tutto. Prima storia, Paperino, favoloso numero 1500, voglio farvi vedere che comunque di 1500 ne ho ben due, e ho avuto modo di leggerla già in maniera originale sul topo, ma ovviamente è una storia che si rifà esattamente a quel numero in cui Paperino si ritrova a dover vendere tutti i giornalini, dico qua, dei suoi nipoti, di topolino. E' indovinato un po', quello stesso numero 1500, anche loro lo avevano, ed è volato di mani in mani. Ovviamente Paperino e i nipotini sono alla ricerca continua di quello che sono i 1500. Un numero veramente molto bello, il 1500 in sé, ma anche la storia, fantastica. Vi consiglio di recuperarlo, questo numero, non tanto per il valore, perché comunque lo trovate ancora sui 15-20 euro, ma per le storie presenti, e poi comunque è abbastanza emblematico come numero. Tra l'altro numero 1500, lire 1500. Ma andiamo avanti, veramente bella storia. Pippo e la collezione unica, a cui torniamo indietro ancora di un bel po' di anni, siamo negli anni 65. Una storia di, non ricordo chi, ma ovviamente c'è scritto all'inizio, di Fred Abrams e Alice Ehringer, come vedete è una storia brasiliana, ma che in realtà è stata ristampata poi anche nel Topolino, mi pare 513. È una storia in cui Pippo, come vedete, con dei disegni molto particolari, anche se del tempo, viene avvertito insieme a Topolino che nella mostra, insomma, in un museo, è stato rapinato prendendone e rubandone un oggetto. Però lascerà un indizio fatale questo ladro, che non mi voglio spoilerare, e che rende la storia, seppur corta, molto carina. Paperino e il francobollo del centenario. Storia di Topolino 1734 e si parla di testi di Bruno Sarda e disegni di Franco Valussi. Bruno Sarda, tra l'altro, è ancora in attività, quindi, immaginate già nell'89, era già lì che scriveva. Tra l'altro è una storia molto bella, perché Paperino, grande amante dei francobolli, si ritrova a dover prendere pure quello che è il centenario, insomma, quello che è il francobollo, un po' come se dovesse uscire il numero 4000, per noi del pretopolino. Paperino però si dimentica di questa collezione che sta andando avanti, di questo francobollo, e quindi cerca tutti i modi, si impersonifica vecchietta, oppure ancora postino, o addirittura un cane, pur di saltare la coda e arrivare a prendere il francobollo. Insomma, una serie di gag simpatiche che vi consiglio di andare a leggere, perché è veramente molto bella. E merita. Sempre nello stesso numero, come vedete, strana come cosa, ma sì, sempre nel 1634, come Topolino, abbiamo un'altra storia dei Paperi dedicata a Dio Paperone, e il Kilim del Gran Calam, testo di Cimino e disegno dello studio Comic Up. Una bellissima storia anche questa, in cui i nipotini, grazie a un presunto rigattiere, ottiene quello che è un tappeto, un tappeto che ha una particolarità. E una volta che Dio Paperone ne scopre la possibilità e la particolarità, vuole quel tappeto, non proprio quello identico a quello che hanno trovato, ma vuole quello dedicato agli affari. E ovviamente Dio Paperone appena sente questo, insomma, chiama in battuta, in piena notte i nipoti, pur di cercare quel Kilim degli affari. Si rivelerà positivo o negativo? Ovviamente non sono qua per potervelo spoilerare, ma vi consiglio di leggere la storia, perché merita davvero tanto. Pippo l'automobile, invece, è una storia di non so manco che numero, perché in realtà non so se è mai uscita in Italia. È una storia corta, in cui Pippo fa le sue prove in auto, in cui prova anche più auto. Come vedete, di quattro pagine, però alla fine un po' una pausa ci voleva. Nel Topolino 1979, con i testi di Bruno Sarda ancora, i disegni di Valerio Held, ci ritroviamo questo bel numero dedicato a Luca Comics. Al tempo non veniva chiamato Comics, ma penso solamente Luca, capitale del fumetto, perché non è mai uscita la parola Comics. Semplicemente, probabilmente, era un omaggio per promuovere la fiera, che a noi tanto dispiace, che purtroppo quest'anno non si farà, ma che ogni anno c'è sempre stata. Ovviamente il protagonista è il numero uno di Topolino, che è un numero uno però particolare, un numero uno senza coda. Come vedete, in realtà, il Topolino, nella sua originalità, ha la coda dietro qua, dietro la mano. In realtà qui non compare. E Paperino aveva quella copia, ma l'ha regalata, venduta praticamente, all'unico, al primo che passava. Quindi una serie di gag simpatiche. Come vedete qua, prima di arrivare alle storie, abbiamo tre redazionali, tre pagine, dedicate a Topolino, in realtà di Pico Peppo, e Paperino e la Monito di Amunsen. Queste due sono le storie più belle del volume, e infatti, lo dico sempre, più si torna indietro con il tempo, e più si arriva alle storie più belle. In particolare, a me è piaciuta molto, Topolino e la realità di Pico Peppo. Una storia bellissima, divisa in due parti. Vediamo chi è, i testi, i disegni, perché non me lo ricordo. Trama di Luciano Bottaro, sceneggiatore di Carlo Candy, e disegni di Giovanni Battista Carpi. Di questi tre, per fortuna Candy è ancora vivo, gli altri due purtroppo no. Ma è una storia bellissima, del 61, in cui vede coinvolti Pippo, Topolino, ah, dimenticavo, due pagine a colori e due bianco e nero, fisse, coinvolti Pippo, Topolino, Eta Beta e Flip. È una storia bellissima, in realtà è un po' confusionaria, a livello di disegni, perché, boh, io devo ancora farci l'occhio a dover leggere due pagine bianco e nero, due pagine a colori, però, più o meno dopo un po' facevo l'abitudine, in cui un notaio rettifica a tutti e quattro che, per aprire quello che è il testamento di un tale Pippo Peppo, bisogna trovare un pacchetto di sigarette ormai introvabile. E una serie di coincidenze, di indizi, di fraintendimenti, di improvvisazione, porteranno a smascherare, insomma, e a prendere, a ritrovare quel pacchetto. Però vi ho raccontato un po', non la fine, ma quasi, perché, ah, poi qua guardate che bei disegni, non voglio dirvi di cosa si parla, ma è all'interno della storia, sempre. Molto belli. Dicevo, non c'è proprio un finale di quelli che potete aspettarvi, però molto, molto interessante. Una storia bellissima, che vi consiglio di andare a rileggere qualora non avesse mai letto. So che sarà più complesso, anzi, sarà meglio avere questo numero, ma per chi avesse il numero 269, 270, questa è una storia che merita davvero tanto. Come merita, seppur a me è piaciuta un pochino meno, l'ultima storia, Paperino e l'amorito di Amundsen, del numero, non lo so, ma direi tipo, addirittura più vecchia, tipo del 135. Testo di disegno di Romano Scarpa, io ho sempre pensato che Scarpa fosse l'erede naturale, l'ebrello di disegno e stile di Karl Barks, e infatti come vedete, un po' lo stile è quello americano. Paperino e nipoti si ritrovano a cercare al polo nord, anzi al polo sud, una serie di oggetti che, insomma, Paperino pensa di poter trovare, di Paperone, però, quella di Archimede dà quello che è questo amuleto stranissimo, che è definito da questo pinguino qua, eccolo, detto amuleto di Admundsen, e quell'amuleto sarà fondamentale per tutta la storia, anche se per gran parte di esso non viene mai nominato, però lui c'è sempre e alla fine darà un ruolo fondamentale. Vi consiglio di leggerlo. Come vi consiglio di leggere, ragazzi, questo numero. In definitiva, questo qua è un numero veramente bello, io purtroppo un tempo avevo tutta la collezione completa, cioè fino tipo al numero 35, poi tutta l'ho venduta per motivi di spazio. Immaginatevi un volume al mezzo di queste dimensioni, tac, 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 e sono numeri anche comunque belli cicciottosi, belli pesanti, sono solo 5 euro, ci può stare, però secondo me questa è la miglior testata che c'è attualmente presente, ovviamente oltre al topolino, perché di fatto sono ristampe, però sono ben gestite, ben curate, non sono censurate, vengono a trovare delle tematiche in comune l'un con l'altro, bello. Poi questa variante, ragazzi, è veramente bellissima. Io, come vedete, non colleziono, perché ho venduto la testata, ma il numero 50, così come il numero 1, li comprai, perché il numero 1 ebbe la variante dedicata a Dante Topolino e il numero 50, insomma, questo bel Marco Rota, ormai ritrovato, direi, che si ritrova qua a fare ancora copertine bellissime. Ciao ragazzi e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ciao.